Vedendoli oggi hanno una spregiudicatezza, una contemporaneità, una capacità di raccontare corpi, desideri, fantasmi che molto cinema italiano contemporaneo non ha. Così a Pistoia Gianni Canova ha parlato del cinema di Mauro Bolognini, l'occasione e l'incontro che a Palazzo dei Vescovi ha aperto il ciclo Dietro le Quinte e che, affiancando alla mostra dedicata al regista pistoiese in tre appuntamenti su cinema e teatro, proporrà l'incontro con critici, docenti ed attrici che hanno collaborato con Bolognini nel corso della sua lunga carriera. Canova, critico cinematografico, autore televisivo, direttore artistico e scrittore nonché accademico e rettore della Libera Università di Lingua e Comunicazione Iulma di Milano, ha così dialogato con le molte persone presenti attorno a Bolognini, regista di cinema. Cosa resta del suo cinema? Di Bolognini restano molte cose, molte cose importanti. È stato uno dei pochi registi italiani a raccontare, con uno sguardo privo di pregiudizi ideologici o sociologici, la borghesia, che è la grande assente del cinema italiano, che ha sempre preferito raccontare o il sottoproletariato, i disoccupati, i pensionati, le mondine o l'aristocrazia. Bolognini, assieme a Antonioni, è uno dei pochi che mette l'occhio, lo sguardo, il suo nuovo sguardo, su quella classe sociale che poi ha costruito l'Italia moderna. In secondo luogo, Bolognini è, nella storia della cultura italiana del secondo novecento, uno degli artisti e degli intellettuali che con più spregiudicatezza osserva da vicino, anche qui senza pregiudizi, la trasformazione del rapporto fra i sessi. La modalità attraverso cui, negli anni sessanta, la dimensione del femminile è molto più avanti rispetto al maschile e i maschi, nel suo cinema, sono quasi sempre inadeguati, inetti, incapaci rispetto alle forme del desiderio del femminile.